Io sono Bruno Congiusti, il fondatore di questo Museo dell'Emigrazione, che abbiamo aperto questa estate, nel mese di luglio, dopo lunghe battaglie per organizzarlo e per rendere la sede la più accogliente possibile. Perché la necessità di questo Museo e soprattutto noi vediamo qua esposti tantissimi reperti, di che cosa si tratta? Il perché è dovuto al fatto che l'emigrazione per noi è una radice profonda del nostro modo di essere, fa parte della nostra cultura, delle nostre memorie, perché non c'è famiglia nel nostro Paese che non abbia almeno un familiare emigrato. Abbiamo pensato di mettere in piedi questa iniziativa, questo Museo, per rendere omaggio a tutti questi nostri emigrati all'estero, al sacrificio che hanno fatto e anche a quello che hanno dato al Paese, perché hanno dato non solo a se stessi, ma anche al Paese di San Nicola da Crissa. Che tipo di materiale voi avete esposto qua a V-Book 2021? Abbiamo esposto oggettistica varia che abbiamo raccolto, casse, baulle, valigie e quant'altro di questo genere, che ha usato il nostro emigrante durante il viaggio o per il viaggio. Inoltre abbiamo esposto una serie di documenti originali che in qualche modo hanno avuto a che fare con il viaggio con le migranti, dai passaporti dell'Ottocento ai passaporti correnti di fine anni Sessanta e inizio anni Settanta, le procure, famose procure attraverso le quali avvenivano i matrimoni a distanza e via di questo passo. Abbiamo centinaia e migliaia di documenti originali raccolti in 30 anni di passione. Dove vi si può trovare? Potete trovarci a San Nicola da Crissa, in modo particolare nella piazza principale, quindi al centro dove abbiamo aperto questo locale, questo museo, e i volontari sono impegnati a tenerlo aperto mattina e sera. Quindi una disponibilità massima e ovviamente anche per appuntamento è possibile realizzare, costruire visite con gli appassionati, con le scuole in maniera particolare e via dicendo. Grazie a tutti.